Ringraziamo il Capitano De Carlini per tutto ciò che ha fatto per il Comando Compagnia e per le popolazioni che risiedono nel territorio su cui è esercitata la giurisdizione della Compagnia di Tolentino. Lo ringraziamo e gli auguriamo un bocca al lupo per il nuovo incarico. Diamo anche ovviamente il benvenuto alla collega Capitano Giulia Maggi che si appresta a intraprendere per la prima volta l'incarico di Comandante di Compagnia e le auguriamo appunto di fare bene come siamo sicuri che farà. Così il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Macerata Nicola Candido è voluto essere presente alla prima uscita ufficiale della nuova Comandante di Compagnia Donna della provincia Umbra con 20 anni di esperienza alle spalle. La nuova Comandante si dice privilegiata per questo nuovo incarico. Questo territorio merita tanta attenzione perché è un territorio particolarmente ameno dal punto di vista paesaggistico, ricco dal punto di vista storico e culturale con una popolazione che ha saputo sempre valorizzare le risorse che ha che è stata custode, operosa di una realtà, di città d'arte, di borghi veramente particolarmente belli. Per cui, ripeto, ringrazio l'Arma dei Carabinieri e cercherò di svolgere il mio incarico col massimo impegno, di essere in buone mani con il supporto del Comandante Provinciale e di avere collaboratori validi, esperti ed efficienti. Per cui spero veramente di poter dare un contributo e far bene nel nuovo ruolo che mi è stato affidato. Ai saluti, invece, Giacomo De Carlini, che ha già assunto il comando del nucleo investigativo del reparto operativo di Pordenone. Lascia Tolentino dopo cinque anni intensi di lavoro, ma anche di crescita dal punto di vista umano. Una terra sana, caratterizzata da una popolazione onesta, lavoratrice, e che ha affrontato con grandissima dignità e senso della misura anche i momenti più difficili come quelli del terremoto, piuttosto che dell'attuale pandemia da Covid. Lascio alla collega e amica Capitano Giuliamaggi un pezzo di cuore, che è quello che lascio qui a Tolentino, ma sono consapevole che questa esperienza mi abbia profondamente arricchito, e da un punto di vista professionale, ma soprattutto da un punto di vista umano. E grazie.